Buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano come vedete ancora la voce non mi è tornata del tutto ma ci tenevo a fare questo video perché non ne sta parlando praticamente nessuno sui social o comunque poche persone rispetto all'importanza credo della trattativa ma giuntoli ha già messo a segno un altro colpo ha messo a segno un altro colpo già per giugno per giugno 2024 di chi si tratta lasciate like iscrizione al canale condivisione del contenuto commentate appena finisce il video riempite di like e attivate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti di calcio mercato e tutto il mondo Juventus e non solo perché parliamo anche di calcio in generale come abbiamo fatto oggi il video sulla Roma le zone del Morigno e possibili allenatori sì ok è arrivato De Rossi è stato ufficializzato si poteva prevedere anche se secondo me la scelta non è quella più giusta ma quello è un mio personale punto di vista per la mentalità va bene ma per l'esperienza e per insomma sta esonerato mi pare alla spalla dopo due sputi però va bene va bene va bene De Rossi alla Roma va bene secondo me a livello di mentalità darà qualcosa in più ma a livello di campo secondo me rimarranno le solite lacune che c'erano con Morigno ecco non si cambia una squadra cambiando un allenatore che pur preistorico che sia con uno che non ha esperienza fondamentalmente e l'unica esperienza avuta è stata abbastanza negativa detto questo aperto e chiuso a parentesi andiamo a parlare di quello che è l'acquisto per giugno di giuntoli parliamo di Felipe Anderson ovviamente Felipe Anderson è sempre più vicino che è successo che è successo praticamente la Juventus corteggia il giocatore ormai sapendo mai scadenza di contratto a giugno già da diverso tempo e a questo punto la Lazio ha provato qualche mese fa a fare un tentativo sul rinnovo per il rinnovo del giocatore un tentativo che però non è andato a buon fine ha fatto un tentativo da circa 3,5 milioni di euro l'anno Felipe Anderson ha detto no ha detto no ha detto no l'unica squadra che ha pronto un contratto più alto in questo momento è la Juventus che ha già l'accordo con la sorella mi pare procuratrice del giocatore su una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro fino al 2028 quindi sono 3 anni per 4 milioni di euro l'anno quindi non un piccolo stipendio per un 31enne perché farà 31 anni a aprile quindi quando arriverà la Juventus ne avrà già 31 compiuti e arriverà fino ai 34 anni con la maglia bianconera e si spera che possa dare il suo apporto ma a 4 milioni un giocatore del genere ci può stare preso soprattutto a zero ci può stare per tecnica e qualità ci può stare anche per età perché in una squadra come abbiamo sempre detto di tanti giovani ci deve essere anche qualcuno con qualche anno in più ma un conto è prendere Felipe Anderson a zero con 4 milioni in anno a 31 anni un conto è come dicevano tutti gli altri Anderson 2 milioni per 6 mesi anche lui metti 4 5 milioni l'anno a 34 anni per un anno e mezzo cosa te ne fai cosa te ne fai assolutamente niente assolutamente niente comunque tra Anderson Jordan Anderson Felipe Anderson e Ederson secondo me la Juventus o realmente l'obiettivo era solo Felipe Anderson ci sono state delle trascrizioni o delle come si dice soffiate sbagliate no si parlava di uno invece si capiva di un altro non lo so non lo so tre nomi molto molto simili qualcosa mi dava a pensare però quello che è certo è che di Ederson non abbiamo conferme anche se comunque l'intensamente della Juve c'è sui giocatori come Ederson Ederson continuiamo a ridirvi che non crediamo fortemente che la Juventus sia andata a cercare il giocatore ma bensì il giocatore si sia proposto la Juventus e la Juventus abbia declinato l'offerta per ovvi motivi ragioni di budget regioni anagrafiche ragioni tecnico tattiche e quant'altro quindi Felipe Anderson è pronto a vestire la maglia la Juventus la Juventus lo vorrebbe anche subito lo Tito sarebbe disposto anche a farlo partire subito ma parliamo di altri di 20 milioni 25 milioni una roba fuori di testa come lo Tito con Milinkovic Savic no o mi dai quelli o va bene anche se lo perdo a zero poi trova i polli tipo in arabia che glieli danno quelli però poi abbiamo visto che dopo tutte le esperienze i giocatori stanno venendo via dal campionato arabo tanti anche lì poi faremo un video no è ma quello è il campionato del futuro non è come è successo in Cina perché lì ce ne andarono poi ragazzi ma si stanno accorgendo tutti delle condizioni in cui vivono è inutile avevi sordi ma poi non farsene nulla perché sei praticamente in galera dalla mattina alla sera no parliamoci caro su è un altro mondo è un mondo che a me non piace è un mondo che io non condivido però o se c'è qualcuno che piace ma non credo che sia quello il futuro del calcio io penso il futuro del calcio sia dove è nato quindi nasce in Inghilterra e credo rimarrà il centro del calcio per molti anni la Premier League senza andare troppo lontano nelle parti un po' più orientali del cosmo detto questo Felipe Anderson ripeto per me 4 milioni all'anno ci sta non ci sta i 15 20 e quindi lo titolo se lo vedrà scappare a zero ecco l'unica squadra che potrebbe farla franca e quindi soffiarla alla Juventus potrebbe essere proprio una della saudi pro league ma ha già detto Felipe Anderson che non vuole andare in quel campionato quindi non credo che che ci saranno molti molti dubbi sulla prossima destinazione del ragazzo detto questo andiamo a vedere un paio di statistiche 20 presenze 17 da titolare nel 23 24 in questa stagione 17 da titolare 1410 minuti giocati 2 gol su 21 tiri solo 4 in porta quindi la media nei gol non è proprio bella 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 è 2 gol su 20 partite un gol ogni 10 aiuto assist però 6 percentuale di passaggi riusciti 77 per cento molto molto alta passaggi chiave 23 passaggi tentati 623 riusciti 480 azioni difensive poi azioni difensive bababababa non ci interessano i dribbling tentati 53 dribbling riusciti 19 non ha una buonissima media sui dribbling tra tentati e riusciti se andiamo a vedere però la l'anno prima l'anno prima 38 presenze quindi campionato scorso 9 gol e 2 assist un po meglio di media mai così tanti la media dei passaggi riusciti per la percentuale 79,8 per cento quindi sempre buonissima dribbling tentati 96 riusciti 54 era forse un pochino più proprio a serpentina comunque ripeto un giocatore a zero così ci sta ma 4 milioni non sono una cosa insormontabile anche perché parliamo di 4 milioni alla juventus lo piglia li piglia praticamente anche il borracciaio ora parte quest'anno e si sta riducendo tutto ma fino all'anno scorso i contratti a 4 milioni erano per non so per chi sei vai vieni vieni 4 milioni ecco si parte con 4 milioni più bonus noi poi l'anno dopo 7 milioni subito questi erano i contrattini bellissimi della juventus pre cristiano giuntoli vediamo se giuntoli affonderà il colpo a gennaio ma non credo ripeto a meno che lotito non si non cambi idea e dica vada proprio in rottura ma abbiamo visto anche con zarate cosa è successo no con lotito tanti episodi tra giocatori della lazio e lotito che anche se vanno in rottura lui se ne frega li panchina li tiene lì poi questi t'arrivano il prossimo anno cioè fra sei mesi fermi da sei mesi quindi no è meglio che le cose vadano avanti fino a giugno a giugno viene a zero e buonanotte arrivederci ragazzi ci vediamo stasera per il post partita live mi raccomando 23 canale gobbo toscano non mancate juventus a suolo e parleremo un po di tutto ciao ragazzi fino alla fine